Lo sciopero di oggi va visto in ottica nazionale, dove praticamente la contrattazione è stata interrotta in quando non vengono rispettate determinate prerogative del contratto di lavoro. Anche i lavoratori dei servizi dell'igiene ambientale di Foggia aderiscono allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. Durante il sit-in svoltosi in via Garibaldi di fronte alla sede della prefettura di Foggia, un documento contenente le istanze dei lavoratori è stato consegnato al prefetto che a sua volta lo sottoporrà al ministro del lavoro e al presidente del consiglio. Dopo oltre 27 mesi le trattative per il rinnovo dei contratti del comparto dell'igiene ambientale si sono interrotte bruscamente e fanno sapere le organizzazioni sindacali. Tale decisione è scaturita dalla profonda insoddisfazione per l'andamento del negoziato sia nel merito che per i tempi che lo stesso sta avendo. Il nuovo contratto di lavoro sembra più un contratto di precarizzazione degli operai, dei lavoratori pertanto noi invitiamo a rivedere ciò che sono le condizioni che loro hanno proposto che vanno in netta controtendenza con gli interessi dei lavoratori. Naturalmente su questo documento che noi porteremo su al prefetto ci sono tutte le condizioni migliorative del nostro contratto che spero vengano messe in essere a livello nazionale. Alcune delle più importanti? Sicuramente la più importante è quella di rimanere come gestione pubblica in quanto l'eventuale privatizzazione del settore porterebbe gravissimi disagi per tutti i lavoratori prima la più importante delle quali ad esempio la flessibilità oraria che quindi permetterebbe ai datori di lavoro di giostrare i propri dipendenti a proprio piacimento.